Pop Sofia al Castello dell'Arancia ha davvero un carattere sperimentale per l'edizione 2015. Infatti abbiamo deciso di inaugurare una nuova rassegna dedicata all'oggetto apparentemente meno filosofico di tutti, cioè i cartoni animati. Eppure in queste ultime settimane di promozione del festival i cartoni animati hanno riscosso un grandissimo successo perché fanno parte non soltanto dei miti formativi ed educativi della nostra società contemporanea ma ricordano alle generazioni più adulte la loro infanzia nostalgicamente ormai passata. Per questo abbiamo deciso di dedicare i due appuntamenti a un cartone animato contemporaneo che appassiona le giovanissime generazioni, i bambini, cioè Peppa Pig, una filosofa marchigiana Moni Andreani ha deciso di sperimentarsi in una filosofia e in un'antropologia legata a questo cartone animato che uscirà tra poche settimane in libreria, ne farà un'anteprima qui a Pop Sofia intervistata dal filosofo romano Salvatore Patriarca e un cartone animato invece che quest'anno compie 40 anni, che ha appassionato tantissime generazioni ed è diventato un vero e proprio romanzo di formazione contemporaneo, cioè Candy Candy, attraverso un'artista Lidia Bacchis che ha dedicato una pubblicazione e anche delle opere d'arte a Candy Candy, sempre intervistata da Salvatore Patriarca per scoprire i risvolti non soltanto educativi, formativi ma anche esistenziali, poetici di una giovanissima eroina come Candy Candy. Lidia Bacchis che ha dedicato un'artista a cura di un'artista a cura di un'artista a cura di un'artista a cura di un'artista.